segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te gli americani di biden avevano già deciso di distruggere putin è una decisione presa molto tempo fa a molti anni fa sì io sono di questo avviso questo è il mio presupposto da cui parto perché nel momento in cui nel 2011 biden come vicepresidente era venuto a mosca si era incontrato aveva avuto un appuntamento speciale con la cosiddetta opposizione della russia con i leader dell'opposizione ha inseguito a questo incontro avevano condiviso le parole di biden avevano parlato del fatto che biden avrebbe voluto chiedere a putin di non presentarsi alle elezioni nel 2012 era stata una richiesta dell'allora vicepresidente americano dal mio punto di vista si è trattato di quel momento in cui gli stati uniti d'america hanno preso la decisione di cambiare le strutture del potere della russia dal momento che putin ha voluto alla fine partecipare nel 2012 avendo tra l'altro una vittoria chiarissima quindi per il signor biden e per l'america questo ha significato che qualcuno nel mondo ha detto di no alle richieste dell'america e questa persona è stata il presidente della russia allora direttore san luce